Benvenuti al lavoro futuro, uno spazio che TG Com24 vuole dedicare al mondo dell'artigianato, al mondo delle piccole e medie imprese, insomma un viaggio che faremo insieme ai nostri ospiti che vi voglio presentare subito, che sono il presidente di Confartigianato Marco Gramelli, grazie per essere con noi questa mattina, e poi un altro ospite invece collegato da Venezia, il professor Stefano Micelli dell'Università Ca' Foscari, buongiorno professore, grazie. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora dicevamo un viaggio che vogliamo fare insieme nel mondo del lavoro, non soltanto nel mondo dell'artigianato, delle piccole e medie imprese che insomma rappresentano davvero una fetta importante del nostro PIL, del nostro prodotto interno lordo. Abbiamo, presidente e professore, preparato un servizio. Vogliamo cominciare da qui, siamo andati a visitare un'azienda importante, vediamo di cosa si tratta. Ogni prodotto nasce da un'ispirazione non solo dal design ma anche dagli artisti, dal campo della musica. In questo caso abbiamo, siamo fatti ispirare dalle Ranaways, per cui lei è Sherry, Sherry Curie e lei è Joan. Una storia di tradizioni e antichi mestieri tramandati di padre in figlio, ma anche di arte e bellezza. Senza l'artigianato e la piccola impresa l'Italia non sarebbe il secondo maggior paese manifatturiere in Europa, con oltre 4 milioni di imprese e più di 10 milioni di dipendenti. Eppure il problema è sempre lo stesso. Il lavoro c'è, ma mancano le figure professionali. Nel 2022 le piccole imprese artigiane in Italia hanno avuto difficoltà a reperire quasi 264 mila lavoratori, circa il 50,2% delle assunzioni previste. Secondo un rapporto di confartigianato sulla mano d'opera, mancano all'appello soprattutto gli autisti di mezzi pesanti, con oltre 85 mila posti scoperti, ma anche operai edili, elettricisti, idraulici, acconciatori e meccanici. Non è semplice fare avvicinare i giovani ai lavori artigiani e all'impresa artigiana, perché sicuramente scontiamo tanti luoghi comuni che derivano magari dall'immagine di un lavoro antico, in luoghi di lavoro non moderni. Invece basterebbe mettere bene i riflettori all'interno di questi laboratori artigiani. In un settore che ha un disperato bisogno di nuove figure professionali, è necessario adeguare i mestieri tradizionali alle esigenze del mercato, sviluppando nuove relazioni con i clienti, ma soprattutto puntare sulla formazione dei giovani per facilitare un ricambio generazionale che stenta ad ingranare. Siamo a Meda, nel cuore dell'abrianza, nel cuore dell'artigianato italiano. In questo laboratorio lavorano diverse generazioni di artigiani. Come si fa, secondo lei, ad avvicinare di più i giovani a questo mestiere? Chiedi la Luca. Che cosa diciamo a chi dice che i giovani non hanno voglia di lavorare? Purtroppo è un brutto concetto che sta girando, però effettivamente a me è piaciuto questo mestiere, ho voluto imparare e voglio continuare. Ho iniziato tre anni fa a fare il tappezzere e mi è piaciuto come mestiere. C'è molto da imparare ancora. È necessario veramente un grande impegno da parte di noi artigiani per, da un lato, smettere di lamentarsi che le nuove generazioni non vogliono fare il nostro mestiere, per esempio, e iniziare ad aiutare le scuole, aiutare la formazione professionale che sta facendo veramente dei passi avanti e mostrare che chiaramente l'artigiano non è mastrogeppetto, ma è tecnologia, investimenti, mercati internazionali, relazioni con il pubblico, una valorizzazione di quello che in realtà è il vero lavoro artigiano, potrebbe veramente attrarre nuove generazioni di ragazzi interessati a far parte di questo meraviglioso mondo. Allora, Presidente Granelli, io partirei proprio dall'analisi di questi numeri che abbiamo visto nel servizio, da questi dati. Partirei da uno, forse da quello che mi è sembrato, insomma, essere un po' ricorrente nelle analisi che si fanno in questo periodo, cioè la mancanza di personale. Si fa fatica a trovare personale adatto qualificato. Come mai? Si fa fatica perché probabilmente oggi scontiamo anche una sottovalutazione del lavoro manuale rispetto a quello che io definisco impropriamente chiamato intellettuale. Veniamo da troppi anni, da troppi decenni, di una politica sulla formazione diseducativa, quindi c'è stata difficoltà a mettere assieme oggi cultura accademica con cultura pratica e tecnica. Oggi invece noi siamo impegnati come confrattigianato soprattutto in questo, cioè a far sì che possono coesistere, perché devono farlo, questi due tipi di approcci. E credo che oggi sia riscontrabile anche molto normalmente quando si incontrano famiglie che hanno dei figli. Quando ti dicono mio figlio ha fatto il liceo è quello che ha fatto la scelta migliore. Se un figlio fa una scuola professionalizzante o tecnica è quello che probabilmente ha dato più delusioni in famiglia. Quindi quella è la cosa su cui culturalmente dobbiamo insistere e dobbiamo fare in modo anche che ci sia un corso di orientamento spolastico il più prolungato possibile e anche qui bisogna rilanciare quelli che sono istituti tecnici e istituti professionali. Anche il fatto di poter chiamare scuole tecniche e liceo, quello mi sembra una cosa importante e giusta, perché ha un suo appeal. Quindi oggi parlare di liceo direi che anche il liceo tecnico potrebbe essere una cosa che fa bene e che anche mette nelle condizioni di andare incontro a quelle che sono le aspettative, quelle che sono anche le idee che i giovani oggi hanno rispetto a un mondo che probabilmente oggi conoscono poco o che comunque negli anni è sempre stato sottovalutato. Perché io credo che oggi se dobbiamo parlare di dare delle opportunità il nostro mondo è pronto ad accogliere e ne ha tante. E credo che tanti giovani potrebbero trovare da noi la possibilità di realizzare le loro aspirazioni e di poterlo fare con delle soddisfazioni sia economiche ma anche e soprattutto personali. Si è parlato giorni fa della proposta del governo del liceo del Made in Italy, condivide? Sì, condivido tanto perché è proprio quello che dicevo poc'anzi, cioè il fatto di mettere assieme cultura accademica con queste competenze più tecniche, credo che vada in questa direzione. E poi non dobbiamo dimenticare che oggi questo tipo di formazione va anche nel senso che valorizza pieno quelli che sono i nostri prodotti tipici, il Made in Italy. Oggi si parla sempre di più di prodotti nostri, fatti di qualità, di unicità, di bellezza, di creatività. Ecco, io credo che questa sia una risposta centrale rispetto a un'economia che è stata sempre fatta sulla standardizzazione, sulla globalizzazione, sulla omologazione dei prodotti. Quindi il fatto oggi di poter avere un liceo che fa questo tipo di formazione, dà questo approccio, io credo che sia una scelta giusta e corretta che dà dignità, diciamo così, anche nel nome. Quindi quando si dice forma è sostanza. Sempre ovviamente parlando di formazione vorrei coinvolgere anche il professor Micelli. Professore, le faccio vedere anche una pagina del messaggero che dice la resa degli universitari perché i licei non li preparano in base alle prove invalzi. Un diplomato su due non ha le competenze minime. C'è una tendenza in crescita soprattutto al sud, le maggiori carenze nella matematica. Allora, le chiedo, insomma, come devono cambiare le scuole? Allora, nel corso degli ultimi dieci anni noi abbiamo impostato un percorso di rilancio della formazione, della formazione tecnica superiore, lo abbiamo fatto investendo su un progetto, quello degli ITS, degli istituti tecnici superiori, che ha qualificato un ciclo, lo chiamiamo tecnicamente terziario, cioè post diploma. Abbiamo dato la possibilità a coloro che si diplomano dal liceo, dalle scuole superiori, di accedere a un percorso formativo qualificante, molto legato al mondo del lavoro, in stretta connessione con le imprese. Sono d'accordo con Granelli che questa attività sul post diploma va oggi affiancata a un'attività sulla riqualificazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che sono stati un po', diciamo la verità, la cenerentola del nostro impianto formativo a livello nazionale. In generale dobbiamo fare i conti, questo lo dico per tutti gli spettatori, con un calo demografico importante. Quando sono nato io nascevano, diciamo nella metà degli anni 60, nasceva un milione di bambini, oggi ne nascono meno di 400 mila. Gradualmente l'Italia ha smesso di fare figli e oggi ci ritroviamo con un mondo che ha oggettivamente meno numeri rispetto al passato. e parte della carenza che voi avete correttamente messo in evidenza nelle vostre infografiche pochi minuti fa deriva anche dal fatto che oggi siamo oggettivamente di meno. Si parla tanto anche di intelligenza artificiale, professore. Ecco, mostro una pagina, vorrei mostrare una pagina del messaggero di oggi, l'impatto dell'alta tecnologia dai fotografi ai meccanici, come l'intelligenza artificiale può cambiare il lavoro. È così? Può avere un impatto importante anche per quanto riguarda l'artigianato? La ringrazio per questa domanda perché credo sia fondamentale per tutti coloro che ci ascoltano. Oggi l'artigianato, quello che abbiamo visto anche nelle immagini, è un artigianato sicuramente legato a gesti, strumenti, pratiche molto tradizionali. In realtà, a fianco di questi gesti, di queste tecniche tradizionali, noi sappiamo da una decina d'anni a questa parte che il successo delle imprese artigiane deriva da una contaminazione con le nuove tecnologie. Prima abbiamo visto un bel esempio di un mobiliere della Brianza che continua a fare i mobili con rispetto di una grande tradizione, quella del nord milanese, quella della Brianza, molto importante. Ma sappiamo anche che per vendere quei mobili è utilizzata la rete, sono utilizzati i motori di ricerca, sono utilizzati il web e tutti i cosiddetti social media, tutti gli strumenti che oggi consentono a quelle aziende di comunicare, legare in generale gli strumenti di quelli che oggi chiamiamo la rivoluzione 4.0, l'insieme delle tecnologie e della transizione digitale all'artigianato è una grande sfida. Oggi si parla di intelligenza artificiale. In generale, la grande scommessa del futuro è saldare da un lato la tradizione italiana del saper fare con quella delle nuove tecnologie che aiutano e non soppiantano la competenza a cui siamo stati abituati nel nostro paese. Presidente Granelli, insomma le nuove tecnologie potrebbero avvicinare i giovani all'artigianato? Sì, già direi che oggi abbiamo delle aziende artigiane che sono in questo solco. Cioè abbiamo aziende oggi, quindi pensare all'artigianato non vuol dire pensare a dei lavori del passato, ma vuol dire avere aziende, per esempio vengo da una regione, l'Emilia Romagna, dove l'Automotive per esempio c'è tutta una filiera rispetto alle grandi case produtrici di nostre aziende che fanno oggetti particolari ma di un'innovazione incredibile. Quindi oggi il fatto di vedere l'intelligenza artificiale, avere un ruolo di complementarietà rispetto a quello che deve essere una valorizzazione della qualità del nostro saper fare, noi la vediamo bene in questo senso, quindi un affiancamento di questo tipo. E' perché oggi nella tecnologia noi ci siamo e ci siamo con dei numeri importanti, per cui quando mi viene da sorridere ogni tanto si pensa all'artigiano, tutti ne parlano come un qualcosa che appartiene al passato. Mentre invece in realtà credo che noi oggi abbiamo un contesto per poter dire che il futuro lo immagino a valore artigiano, nel senso che queste innovazioni, questa tecnologia aiuterà ancora di più a valorizzare e a fare continuare nel tempo quella che è la nostra creatività, unicità, personalizzazione, cura maniacale del particolare, perché credo che faccia la differenza. Quindi oggi siamo arrivati a un punto in cui le persone, i consumatori, vogliono qualcosa di particolare e quello lo possiamo dare noi. In più devo dire che i nostri prodotti sono prodotti che oggi sono appieno nell'ambito di quella che è l'economia circolare, per cui oggi è finita un po' l'epoca dei prodotti di assolescenza programmata, l'ha detto anche l'Europa, per cui oggi il prodotto vale se si può rigenerare, riutilizzare, quindi noi queste cose le facciamo da sempre e da tempo e quindi quello va anche ad affrontare in modo più compiuto quello che è il tema della sostenibilità. Quindi oggi noi a pieno siamo dentro questa sostenibilità. Diciamo che il ruolo che abbiamo anche noi come associazioni non è tanto quello di portare delle cose straordinarie o nuove, è quello di accompagnare le nostre aziende e credo che nella loro biodiversità abbiano tutto il valore aggiunto per esprimere un tipo di qualità e un tipo di prodotti che tutto il mondo ci invidia e che nessuno potrà fare mai bene come facciamo noi. Presidente, lei l'ha detto poco fa, viene dall'Emilia Romagna, per cui un pensiero sicuramente deve andare alle aziende emiliano-romagnole che sono leader, devo dire, in tanti campi, non solo nell'agricoltura e che purtroppo adesso si trovano ad affrontare un'emergenza, bisogna aiutarle a ripartire da zero. Guardi, quella è una calamità sotto gli occhi di tutti e sono stato proprio l'altro ieri a visitare le zone della Romagna e mette angoscia a vedere quella che io definisco un'apocalisse. Noi siamo un popolo però di gente che non ama mai lamentarsi, che si rimbocca subito le maniche, che fa proprio della solidarietà anche in questi momenti e che fa anche della capacità di reazione delle cose che ho uniche. È chiaro oggi che c'è bisogno di poterlo fare, ma ho visto e ascoltato tanti nostri imprenditori di cui il primo pensiero che hanno avuto è proprio quello di ripartire e di farlo senza aspettare tempi, speriamo, troppo lunghi, ma ieri abbiamo già avuto una risposta positiva nel confronto che abbiamo fatto a Palazzo Chigi. Quello che conta è la velocità, oltre all'importanza chiaramente dei finanziamenti che verranno messi a disposizione, ma la velocità ne metterli a terra, perché questi sono componenti che aiuteranno sicuramente a far ritornare quel popolo e quel territorio così danneggiato e così lacerato ancora in condizioni di normalità e soprattutto a far risprendere dei luoghi che sono bellissimi e che potranno dare ancora tanta soddisfazione a chi ci abita ed essere attrattivi anche per i turisti che vorranno venire nel nostro territorio. Grazie. Professor Micelli, prima di chiudere, il 2023 è l'anno della formazione. Le chiedo quali sono le competenze che sono necessarie oggi per fare impresa. Noi abbiamo parlato oggi di competenze legate al saper fare, abbiamo parlato di una saldatura fra saper fare e tecnologia. Credo che ci sia spazio per un futuro segnato anche dalle cosiddette soft skills, quelle competenze trasversali che segnano il futuro di una persona. Noi viviamo in un mondo in continuo cambiamento e dobbiamo imparare ad imparare. Queste soft skills, queste competenze trasversali sono quelle che ci consentono di entrare in contatto con gli altri, di gestire delle situazioni attraverso un pensiero critico, di guardare con fiducia al futuro e di collaborare con gli altri in maniera cooperativa. Questi sono, secondo me, i temi che segneranno anche il futuro della nostra educazione. Grazie. Saper cogliere i cambiamenti, i cambiamenti che comunque ci portano davvero nel recupero dell'artigianalità e del made in Italy. Io ringrazio davvero il professor Stefano Micelli per essere stato con noi, saluto anche davvero il presidente di Confartigianato Marco Granelli. Grazie davvero. Ci fermiamo qui e la linea passa ai colleghi di TG Com 24.